7 segnali che avrai successo. Quante possibilità hai di farcela? Con quale probabilità avrai successo? Dopo aver intervistato e incontrato centinaia di amministratori delegati, atleti, celebrità, alcune delle persone di maggiore successo del mondo, mi sono posto la domanda. Qual è il successo dietro all'uomo di successo? Sono sempre stato affascinato dalla mentalità di coloro che ce l'hanno fatta, la loro disciplina, la loro concentrazione, il loro sangue fresco, di fronte alle difficoltà. Cosa li rende diversi? Queste non sono teorie, questi sono segnali. Vediamo tu quanti di questi hai commentando qui sotto. Benvenuto in direzionecrescita.com, il primo canale di crescita personale in Italia, dove ogni giorno vieni guidato verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Se ancora non lo sai già iscriviti ed attiva le notifiche così da rimanere aggiornato su ogni nuovo video che pubblichiamo. Segnale numero 1. Le persone di successo hanno grandi abitudini. Le persone che non hanno successo invece hanno abitudini pessime, come fumare, bere, drogarsi, guardare troppa tv. Vedi, le persone di successo sono dove sono oggi grazie alle loro abitudini. Determinano il 95% del comportamento di una persona. Tutto ciò che sei oggi, tutto quello che realizzerei in futuro, è determinato dalla qualità delle abitudini che hai. Quello che ho scoperto è che le persone migliori hanno le abitudini migliori. Vedi, le persone di successo sono semplicemente quelle con abitudini di successo. Le abitudini di successo potrebbero essere ad esempio alzarsi la mattina, meditare, leggere, fare regolare esercizio fisico. Quante di queste abitudini hai tu? Segnale numero 2. Le persone di successo sono incredibilmente motivate. Quanto sei motivato? Ora, non sto dicendo che tu debba essere una spina nel fianco bullizzare le altre persone. Parlo di te che ti sforzi per ottenere risultati. Sono i tuoi impulsi personali che trasformano le idee in azioni in risultati. È la tua motivazione che ti spinge quando il gioco si fa duro. È la tua motivazione che ti mette in piedi dopo una delusione. Allora, quanto sei motivato? O sei pigro? Procastini? Rimandi le cose? Sai, per i primi 5 anni della mia carriera non ho preso un solo giorno libero. Lavoravo 10, 12, 14 ore tutti i giorni per 5 anni di fila. Come mai? Perché ero motivato. Ero spinto dal bisogno di provvedere alla mia famiglia. Ero spinto dal voler dimostrare che gli altri si sbagliavano. E oggi sono spinto dalla mia missione. E tu quanto sei motivato? Segnale numero 3. Le persone di successo hanno fiducia nelle proprie capacità. I due più grandi nemici del successo. Numero 1 l'insicurezza e numero 2 la paura dell'ignoto. Noi lottiamo con l'insicurezza. Ci preoccupiamo? Siamo pronti? Siamo abbastanza? Abbiamo davvero quello che serve per riuscire? La fiducia non è altro che credere in te stesso. E credere in se stessi non è molto di più che fare cose che prima pensavi di non riuscire a fare. La fiducia deriva dalla competenza. È facile credere in se stessi quando tutti credono in te. Sto parlando di credere in te stesso quando non sei pronto. Credere in te stesso quando nessuno ti crede. Credere in te stesso quando tutti dubitano di te. Pensano che non puoi farcela, che non riesci, che non hai quello che serve. Questo è il momento in cui devi sviluppare quell'incrollabile fiducia in te stesso, quella convinzione di potercela fare. Ma non confondiamo sicurezza con arroganza. Vedi, l'arroganza è pensare di essere migliori degli altri. La fiducia è sapere che nessuno è migliore di te. Ti senti abbastanza sicuro della tua capacità da fare quello che serve? Sei disposto a scommettere su te stesso? Non solo parole, ma azioni. Quanto spesso investi su te stesso? Sei disposto a giocarti tutto per i tuoi obiettivi e i tuoi sogni? Scommetti su te stesso? Oppure procrastini? Esiti? Sei un perfezionista? Soffri di paralisi dell'analisi? Potresti avere le idee migliori e le idee più brillanti del mondo, ma se non riesci a sviluppare quelle idee, non sai come comunicare quell'idea ad altre persone, non andrai da nessuna parte. Le capacità di comunicazione si presentano in diversi modi. Ad esempio scrivere loro delle email, o scrivendo sotto i loro posti sui social media, o andare a quell'incontro, o parlarci uno a uno, parlarci al telefono, o anche parlando a grandi gruppi di persone. Tutto ciò rientra nella capacità di comunicazione. Quindi tutte le persone di successo hanno questa cosa in comune, la capacità di influenzare, persuadere e ispirare altre persone. Segnale numero 5. Hanno una mentalità di crescita. Mark Cuban legge tre ore al giorno. Bill Gates legge almeno un'ora al giorno. Io leggo due o tre libri a settimana, da anni ormai, e ancora imparo cose nuove costantemente. E non parlo solo della lettura dei libri. Potrebbe essere l'ascoltare un podcast, parlare con altre persone di successo, essere seguito dai tuoi mentori. Ma le persone di successo stiamo sempre a imparare e crescere, senza pause. Una volta chiesi ad una persona di successo se volesse pranzare con me. Ha avuto molto successo per parecchi anni, in mezzo a fusioni e acquisizioni. Ha avuto diverse compagnia ad una così giovane età. Quando ci siamo seduti, eravamo uno di fronte all'altro, e abbiamo pranzato, la prima cosa che fece è tirare fuori un taccuino e prendere appunti. E ha iniziato a farmi domande, imparando. Ero io quello che volevo imparare da lui, ed invece è diventata una sessione di apprendimento, lui che impara da me. Questo non lo dimenticherò mai, perché sai, più cose sai, più ti rendi conto di non sapere. E meno sai invece, più credi di saperne. Segnale numero 6. Le persone di successo imbracciano i fallimenti. Tu imbracci i fallimenti o li prendi sul personale? Vedi, le persone di successo sono ridicolmente positive riguardo il loro futuro. Ne parlano sempre in modo positivo, come stanno andando le cose, come se ci fossero già arrivati, anche se non c'è modo che possa succedere. Credono loro stessi. Hanno aspettative positive sul loro futuro. Walt Disney è stato licenziato dagli editori. Dicevano che non aveva immaginazione né creatività. Steven Spielberg è stato rifiutato tre volte dalla scuola di cinema, prima di ottenere il suo grande momento. Al colonnello Sanders, età 56 anni, è stata rifiutata mille volte la sua ricetta, prima che un ristorante la usasse. Ti accorgerai che le persone che hanno avuto il miglior successo sono anche quelle che hanno fallito più di chiunque altro. La vera differenza tra una persona di successo e chiunque altro non è una mancanza di forza, e nemmeno una mancanza di conoscenza. È una mancanza di volontà. Winston Churchill l'ha detto meglio. Il successo passa da fallimento in fallimento, senza perdere l'entusiasmo. Prendi ad esempio le vendite e le chiusure. I venditori di maggior successo, gli agenti di successo più pagati del mondo, indovina un po'. Sono quelli che al giorno vivono i rifiuti più di chiunque altro. Ed è questo che gli spiana la strada per il successo. Il fallimento è ad un passo dal successo. Segnale numero 7. Hanno un alto QE. No, non QI, ma QE. Potrebbero non essere le persone più intelligenti del mondo, ma si circondano di persone intelligenti. Potrebbero non essere i migliori studenti del mondo, ma tuttavia dimostrano un'alta intelligenza emotiva. Quando si tratta di successo, il QE mangia il QI a colazione. Diciamo il QI per lo più è genetico, ci si nasce. Tuttavia il QE potrebbe essere sviluppato, appreso e perfezionato. Le persone di successo hanno un alto grado di intelligenza emotiva, il che li porta a non spezzarsi quando sono sotto pressione. Mantengono la calma. Sanno come affrontare lo stress. Sanno come affrontare l'ansia. Anche quando le cose non vanno come vogliono. Le persone di successo sono anche molto consapevoli di sé. Nel senso che sanno in cosa sono capaci, in cosa non lo sono, quali sono i loro punti di forza e quali i loro punti deboli. Sanno gestire le loro emozioni e si rifiutano di sentirsi inadeguati, risentiti, delusi, quando il fallimento inevitabilmente li colpisce. Insomma, quanti di questi segnali hai tu? Qual è la probabilità che avrai successo? Se hai alcuni di questi segnali, congratulazioni, le probabilità che tu abbia successo sono piuttosto alte. Se hai tutti questi segnali invece, allora le possibilità sono molto, molto più alte. Se non ti rispecchi in queste attitudini o non riesci a trasformare le tue attitudini in progetti pratici, è necessario che tu abbia il controllo assoluto sulla tua mente, ed in particolare della parte di essa che non controlliamo consciamente e che determina il 95% delle nostre azioni. Se sei interessato, clicca qui in basso per richiedere una consulenza uno ad uno per essere seguito con metodi e strategie più avanzate, oppure iscriviti e consulta gratuitamente le centinaia di video lezioni che trovi su questo canale. In entrambi i casi scoprirai che si possono fare salti da gigante, applicando le giuste tecniche con costanze di impegno. Ricorda, se non sei tu a pianificare il tuo successo, stai andando incontro al tuo stesso fallimento. Per questo video è tutto, a presto!